L'attacco di Gugnaro 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 Sì, cazzo stanno! E credo non succeda l'errore, vedete? Sbagliamente fuggato! Si mette il traverso di conseguenza, via libera per Brugnaro, quando mancano ancora 3 giri esterni. Brugnaro, per portare a terra! Grazie a tutti! Non è questo, è un taglio! Sì, è! Sì, è un taglio! Non morirà in corsoknow no venga, devono r myself miare! Sì, è un taglio dove ioاج ho chiusa! Per me siete errati! V läjsse effettori! Non morirà in corso терrati! Grazie per la visione!